Al 1 settembre il servizio vaccinazioni dell'area Vasta 1 ha fornito alla Regione Marche il dato delle situazioni così definite irregolari, ovvero non in linea con le prescrizioni della legge Lorenzin sulle vaccinazioni obbligatorie nella fascia 0-6 anni per poter accedere ad asili nido e scuole per l'infanzia. Sono 1.592 le posizioni trasmesse all'ufficio regionale 667 a Pesaro, 598 a Fano e 327 a Durbino. Ma su Fano coloro che nelle comunali hanno visto decadere l'iscrizione al primo di luglio sono solo una quindicina di unità con una percentuale bassissima al di sotto del 2%. In quei 1.500 potrebbero essere bambini che ancora hanno in itinere il percorso e non hanno fatto solo alcune vaccinazioni. È chiaro che dovendo rispondere ad una romanda che c'è stata fatta dalla Regione. Quando i bambini ancora non sono in regola, in completa regola, io devo tener conto di tutte le vaccinazioni che la legge Lorenzin prevede e sia che non siano state espletate tutte o anche una, io devo dire che quel bambino non è ancora in regola anche se non ne ha espletata una. Quindi viene fuori questo numero piuttosto corposo che è di 1.530 circa bambini. Le marche, stando ai dati forniti dai vari dipartimenti di prevenzione e salute all'inizio dell'anno, sono in linea con il dato di copertura vaccinale nazionale. L'Italia viaggia nel 2018 con percentuale a riguardo dell'esa valente del 95% di copertura percentuale che assicura, stando alle evidenze scientifiche, la famosa immunità di gregge. Ma l'Italia è lunga e stretta come si sa e quindi se il dato nazionale rappresenta un confortante indice di buona sensibilità vaccinale, conseguito dalla popolazione, non è detto che ciò sia riproducibile in tutte le regioni. Infatti, secondo i dati del Ministero della Salute, nel 2018 la regione più virtuosa è stata la Basilicata. Il fanalino di coda è la provincia autonoma di Bolzano. Le marche a gennaio 2019 sono al 93% di copertura per l'esa valente e 92% per il morbillo. Nella nostra provincia l'Asur ha rilevato una copertura del 93,8% con Urbino capofila con un 96,8% assieme a Fano e in ultima posizione Pesaro con una copertura dell'89% mentre per il morbillo Urbino è al 97%, Fano al 93% e Pesaro all'86% di copertura. Direi che nell'area vasta 1 il panorama è buono, nel senso che fondamentalmente l'azione che è stata fatta in questi due anni, dall'inizio della legge Lorenzin che è datata a 2017, è buona. È stato fatto un grosso lavoro di recupero per cercare di recuperare intanto i cosiddetti esitanti, quelli che a livello nazionale, non solo noi nelle marche chiamiamo esitanti, persone che non hanno una contrarietà per un qualche principio particolare ma hanno dei dubbi.